cari mondi dal profilo immenso di molti armenti e fiori grembo ferace perché cessaste di profumar d'incenso era la mia abitazione poi con il terremoto ha cambiato spettano via no perché si vedono che si conosce le po di for the war was the pearl of orient we kennen de namen van plaatser li scopo a chiama oorloga oppure ombre ma ma wat gebeurt er ales e stoffi is neergedaald de overlevende moeten accepteren wat ze kwijt zijn en hun bestaan weer opbouwen met wat er nog over is sto Buongiorno a tutti, questo sarà il giorno del giorno che ti ricordi per la resta della tua vita. Buongiorno, oggi per me, dopo 8 anni di guerra, voi siete il mio primo gruppo, mi portatevi la vita, e sono molto reconnaissante, ma è molto diverso, la visita del souk.